Benvenuti sul canale, dove ogni settimana vi immergiamo nelle emozionanti anticipazioni di Endless Love. Quest'oggi, vi guideremo attraverso una settimana dal 27 maggio al 1 giugno, carica di suspense e emozioni forti, che non potete assolutamente perdervi. Nel cuore di questi episodi, Nian affronta un momento drammatico. Viene rapita, e il suo sequestratore le rivela una verità sconvolgente riguardante suo fratello Ozan. Non solo, scopriremo anche come Gallip riesce astutamente a diventare il proprietario della casa di famiglia di Leila e Vildan. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, per non perdere nessuna delle nostre future pubblicazioni. Lasciate un like se siete ansiosi di scoprire come si svilupperanno queste trame, e commentate qui sotto quali sono le vostre aspettative, o teorie, su cosa accadrà nei prossimi episodi. Arrivato a casa di Asu, Kemal si ritrova inaspettatamente immerso in un clima di forte tensione emotiva. Asu, cercando consolazione, lo abbraccia stretto. Nel mentre, squilla il telefono. È Nian. Prima che Kemal possa rispondere, Asu, con gli occhi colmi di lacrime, gli rivela che suo zio ha chi sta morendo, e che le cure non stanno sortendo gli effetti sperati. Profondamente turbato da questa notizia, Kemal decide di ignorare la chiamata di Nian, mentre Asu continua a raccontare della difficile situazione di suo zio. Nel suo studio, Nian, sentendosi trascurata, e non ricevendo risposta da Kemal, lascia un messaggio in segreteria carico di frustrazione e gelosia, per essere stata messa in secondo piano rispetto a Asu. Mentre esprime il suo amore indomito per lui, improvvisamente due uomini dall'aspetto minaccioso irrompono nello studio. Nel panico, Nian descrive a Kemal, ancora registrando il messaggio, l'aspetto degli intrusi mentre cerca di chiudersi dentro, ma gli uomini riescono ad entrare giusto in tempo per narcotizzarla, nonostante i suoi tentativi di chiamare aiuto. Prima di portarla via, verificano che non sia riuscita a contattare la polizia. Intanto, nella casa di Asu, lo zio ha chi, ormai debilitato, esprime un ultimo desiderio che lascia Kemal sbigottito. Vuole che l'ingegnere sposi sua nipote e prenda le redini dell'azienda. Di fronte a questa richiesta in attesa, Kemal, con rispetto e sincera tristezza, spiega che non può accettare. Ammette di avere grande stima e affetto per Asu, ma il suo cuore è legato a un'altra donna. Nonostante le insistenze di Aki, che minimizza l'amore di Kemal per Nian come un semplice fuoco di paglia giovanile, Kemal ribadisce la sua fedeltà a Nian e sottolinea che sposare Asu non farebbe altro che procurarle dolore. Uscendo dalla stanza, Kemal scopre Asu che, ascoltando dietro la porta, scoppia in lacrime e corre a rinchiudersi nella sua stanza, disperata. Nel frattempo, Emir, preoccupato per la sparizione di Nian, si reca nello studio di lei, ma non trovandola, cerca di contattarla al telefono, scoprendo che è spento. Anche Yasmin, in arrivo nello studio, non riesce a fornirgli alcuna informazione utile. Emir comincia a temere che Nian possa aver scoperto della sua notte insieme a Zeynep e che possa averlo lasciato. Preoccupato, prova a cercarla a casa di Kemal, ma non la trova neppure lì. Allora sospetta che Zeynep le abbia raccontato della loro notte in hotel e teme che sua moglie lo abbia lasciato come promesso. Nel frattempo, Kemal ricorda di non aver risposto alle chiamate di Nian, trova il messaggio lasciato nella segreteria telefonica e scopre così del suo rapimento. Immediatamente esce di casa e chiama Zeynep per un incontro urgente. Convinto che Zeynep abbia rivelato a Nian della loro relazione clandestina, Emir la confronta, ma lei nega categoricamente. Travolto dall'ansia e dalla paura di aver perso Nian, Emir si trova di fronte a uno dei suoi peggiori incubi, la scomparsa di Nian senza traccia alcuna. Dopo aver avvisato la famiglia e organizzato una ricerca immediata, riceve una chiamata sconvolgente da Taner, che ammette di essere il mandante del rapimento di Nian. Kemal, nel tragitto verso l'incontro con Zeynep, è sopraffatto dai ricordi con Nian. Le memorie dei loro momenti felici di cinque anni prima lo straziano mentre riflette su come iniziare le ricerche. Chiama Salih, che si offre prontamente di aiutarlo. Conscio del potere manipolatorio di Emir, Salih riconosce la gravità della situazione e si impegna a supportare Kemal in ogni modo possibile. Nel frattempo, Taner rivela a Emir di volere la vita di Nian come vendetta per la morte di sua moglie Karen, assassinata per mano di Emir stesso. In un acceso scambio, Taner minaccia. Occhio per occhio, tua moglie per la mia. Sebbene furioso, Emir è costretto a negoziare. Taner pone una condizione non negoziabile. Libererà Nian solo se Emir garantirà la sua liberazione dal carcere il giorno successivo. Disperato, ma determinato a salvare sua moglie, Emir accetta il patto. Mentre Emir si dibatte in questa negoziazione tesa, Zeynep, osservando la sua reazione alla scomparsa di Nian, parla con Efsan, la domestica. Scopre così quanto Nian sia importante per Emir, un dettaglio che rivela il suo punto debole più grande. Soddisfatta di questa scoperta, Zeynep capisce di avere un vantaggio significativo. Con il tempo che scorre inesorabilmente, Kemal, Zeyr e Salih collaborano per organizzare un piano d'azione, basandosi su pochi ma cruciali indizi lasciati da Nian prima del suo rapimento. Il messaggio in segreteria offre dettagli chiave per identificare uno dei sequestratori, che si rivela essere collegato a Cori Skender, un criminale pericoloso, in carcere con Taner, e un altro detenuto, Nekmi. Deciso a utilizzare ogni risorsa a sua disposizione, Kemal contatta Nekmi, sperando di ottenere informazioni utili sul possibile nascondiglio di Nian. Nekmi, avendo motivi personali per odiare Cori Skender, accetta di aiutare Kemal, fornendo dettagli che potrebbero portare alla localizzazione di Nian. Nel frattempo, a casa di Kemal, Onder incontra Leila, che approfitta dell'occasione per ringraziarlo per averle restituito i documenti necessari a riottenere i suoi diritti all'interno della società. Dopo aver espresso la sua gratitudine, Leila trova anche il modo di perdonare Onder per le passate sofferenze causate. Quando Onder si appresta a lasciare la casa, si trova di fronte a Vildan, che ha ascoltato tutta la loro conversazione. Nian si ritrova prigioniera in un oscuro magazzino abbandonato di Skender, un criminale di fama nefasta. La mente dietro il suo rapimento, però, è Taner, il quale mira a vendicarsi di Emir, accusandolo giustamente dell'omicidio della propria moglie Karen. Taner ha pianificato di uccidere Nian e incriminare Emir, garantendosi la libertà e la sua vendetta. Mentre Nian è tenuta in ostaggio, Emir sfrutta tecnologie avanzate per localizzarla, mentre Kemal segue le indicazioni di Nekmi per guidare le operazioni di ricerca. Anche Onder e Ozan, profondamente preoccupati per Nian, si aggregano a Kemal agli sforzi di salvataggio. Tuttavia, Taner riesce a sfuggire durante un agguato mentre viene trasferito in un'altra prigione e, senza lasciare tracce, si reca al magazzino dove Nian è detenuta. Da lì chiama Emir Taner e gli comunica, davanti a Nian, che la ucciderà per fargli provare lo stesso dolore che lui ha provato per la morte di Karen. Nel frattempo, Nian tenta di ragionare con Taner, esprimendo il suo shock per gli eventi tragici scatenati. Confessa di aver cercato solo la verità da Karen riguardo l'innocenza di suo fratello. Taner conferma a Nian che suo fratello Ozan è innocente, rivelando di avere un video che prova l'innocenza di suo fratello e che intende usarlo per incastrare Emir. Tuttavia, afferma che non servirà a nulla a Nian, poiché ha intenzione di ucciderla. Emir, ricevendo una videochiamata da Taner, assiste impotente alla messa in scena dell'esecuzione di Nihan. Mentre uno degli uomini sta per sparare, si scatena una colluttazione e il telefono cade a terra, interrompendo la trasmissione. Emir non può vedere che Kemal, Zehir e Salih sono arrivati giusto in tempo. Kemal interviene impedendo l'assassinio di Nihan, mentre gli altri neutralizzano i complici di Taner. Kemal poi conduce Nihan in un'area isolata nel bosco vicino e nel clima di tensione e sollievo la bacia appassionatamente, esprimendo tutto il loro amore reciproco con un gesto intenso. Contemporaneamente, Emir e i suoi uomini, tra cui Tufan e Tariq, arrivano sul posto e catturano Taner, ma non trovano Nihan. Furioso, Emir decide di non consegnare Taner alla polizia, ma di punirlo personalmente. Quando Tariq chiede a Tufan quali siano le loro intenzioni, Tufan risponde con un gesto esplicito che allude all'uccisione di Taner, lasciando Tariq visibilmente preoccupato per la pericolosità della situazione in cui si è trovato coinvolto. Dopo una serie di tensioni e incertezze, Nihan viene finalmente ritrovata e riportata a casa sana e salva. Il suo rientro è segnato dalla rabbia. Accusa apertamente Emir di essere responsabile della morte di Karen. In difesa, Emir rivela che, nonostante abbia coperto il crimine, il vero assassino è Tariq. Questa confessione scatena ulteriori turbolenze nelle già attese dinamiche familiari. Parallelamente, Vildan riceve due colpi devastanti. Scopre che Galip è l'unico proprietario della villa di Leila, rendendosi conto di essere stata ingannata. Inoltre, apprende che sua sorella ha deciso di riprendere il pieno controllo delle sue responsabilità come socia dell'azienda. Azu, dal canto suo, rivela a Aki il suo piano per conquistare definitivamente il cuore di Kemal. Confida di avere una strategia e di poter contare sull'appoggio di Feime, che potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel suo schema. Intanto, Kemal ha un acceso confronto con Tufan, nel quale sostiene con fermezza che Tariq non è coinvolto nell'omicidio di Karen. L'alibi fornito da Banu sembra rafforzare questa sua convinzione, anche se Kemal è all'oscuro del fatto che la verità è ben diversa e che Banu ha mentito. Nel frattempo, Kemal decide di affrontare la questione direttamente, incontrando Tariq. Durante il loro dialogo, Tariq, chiaramente stressato e frustrato, proclama la sua innocenza, ma poi crolla e ammette la sua responsabilità nell'omicidio di Karen. Nello stesso tempo, Asu è di fronte a un dilemma personale e cerca l'aiuto di Kemal per persuadere Hakki, gravemente malato, a trascorrere i suoi ultimi giorni in ospedale per ricevere le cure necessarie. Hakki, però, è irremovibile e rifiuta categoricamente, insistendo affinché Kemal sposi Asu. Successivamente, Kemal affronta un difficile confronto con Faymè, che non riesce a comprendere perché Kemal non abbia ancora compiuto il grande passo con Asu. Questa conversazione evidenzia la crescente pressione che Kemal percepisce da più parti riguardo al suo futuro con Asu. In un'altra parte della storia, durante una conversazione con Ondair, Zeynep rivela di essere a conoscenza di un significativo segreto di famiglia. Curiosa e calcolatrice, utilizza questa informazione per costringere Ondair a rivelarle tutti i dettagli riguardo al matrimonio tra Nihane e Demir, mostrando come le dinamiche di potere e i segreti continuino a influenzare profondamente le relazioni all'interno di queste famiglie intrecciate. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete Voglio il seguito nei commenti e, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!